io volevo ammazzare un ragazzo come me togliergli tutte le promesse che aveva dei figli toglierlo i suoi amici e parenti ho ucciso perché aveva l'area felice e questa è la missione che ha fatto ai carabinieri il marocchino che ha ucciso stefano leo lo scorso 23 febbraio in riva al po era visibilmente turbato il procuratore vicario di torino paolo borgna nel dichiarare ai giornalisti il movente per cui saeed makawat un italiano di origini marocchine si è presentato spontaneamente in questura confessando il delitto del giovane stefano leo un movente che rabbrividisce fa venire il freddo alla schiena ai pubblici ministeri santoriello e bucarelli il giovane ha confessato che quella mattina voleva ammazzare qualcuno e ha ammazzato un coetaneo un ragazzo come lui il reo confesso alla presenza del suo legale di fiducia all'avvocato basilio foti ha ammesso che quella mattina voleva uccidere qualcuno e si è costituito sentendosi braccato dai carabinieri l'arma un coltello ben affilato era nascosto in una cassetta dell'enel di piazza d'armi il comandante dei carabinieri francesco rizzo e il procuratore vicario affermano che ci sono ancora alcuni punti da chiarire la stessa mattina dell'omicidio saeed aveva comprato un set di coltelli da cucina giunto in piazza vittorio di circa le 9 e 30 è sceso lungo i murazzi in lungo po macchiavelli prima dell'efferato omicidio di stefano leo ha avuto una discussione con alcuni passanti tra questi un testimone chiave che è stato accusato di averlo fotografato con il cellulare il coltello per uccidere stefano era nascosto in una cassetta elettrica in piazza d'armi e saeed ha ammesso gli stessi militari che voleva riutilizzarlo saeed makawa viveva di espedienti dormiva in un rifugio per senza fissa dimora nei presi di piazza d'armi dove è stato ritrovato il coltello anche se è assurdo il movente gli inquirenti escludono al momento che si tratti di uno squilibrato anche se in passato era stato seguito dagli assistenti sociali dopo la separazione della moglie dalla quale ha avuto dei figli nel 2015 la confessione parla di un movimento legato alla sua infelicità e alla volontà di arrecare infelicità a qualche altro giovane solo questo però ripeto come ha già detto anche il colonnello è un movente su cui noi faremo ulteriori indagini non ci basta questa sua dichiarazione questo è quanto ha dichiarato lui questa notte il fermato è un signore di cittadinanza italiana di origini marocchine di 27 anni si è vero ha dei precedenti penali per 572 cioè per maltrattamento in famiglia sostanzialmente non di questo tipo qua insomma ecco quindi è la soluzione che all'inizio noi carabinieri noi procura non abbiamo mai scartato nessuna soluzione fin dall'inizio abbiamo coltivato tutte le ipotesi possibili quindi anche l'ipotesi del folle in cui questa parrebbe inserirsi era l'ipotesi in cui io personalmente credevo un po di meno perché forse il nostro speravamo che fosse non fosse così perché questa è l'ipotesi che fa più paura a tutti e invece c'è stato questo colpo di fortuna che ci ha consentito di chiudere su questa ipotesi ripeto però i colpi di fortuna danno un colpo di ala alle indagini quando dietro ci sono delle indagini intelligenti tenaci e fatti da investigatori intelligenti come sono stati i minuti dell'arma dei carabinieri di torino insomma colonnella poteva succedere a chiunque poteva purtroppo succedere a chiunque l'importante che sia stato assicurato ecco Grazie a tutti.